La direzione di musei e parchi archeologici siciliani vada agli archeologi e storici dell'arte. Dalla padella alla brace, invece di affidare musei e parchi archeologici siciliani agli archeologi e storici dell'arte, super specializzati in servizio da 18 anni nei ruoli direttivi della regione, i deputati di Fratelli d'Italia, con un disegno di legge rappresentato all'Ars, propongono di bandire concorsi per dirigenti esterni, nonostante la Corte dei Conti abbia più volte rilevato l'esubero persistente dei dirigenti attualmente in servizio nella regione siciliana, così le associazioni culturali e ambientali firmatarie di un documento congiunto contro un disegno di legge rappresentato all'Assemblea regionale siciliana. Ma la cosa che più preoccupa le associazioni è l'idea di una gestione privatizzata a profitto delle clientele politiche da parte di questi direttori manager che verranno scelti da una commissione sulla base di non ben precisate esperienze di promozione turistica e del piano strategico di gestione presentato. Non vorremmo trovarci di fronte a direttori promotori turistici incompetenti sui beni culturali di cui hanno la gestione, selezionati peraltro da una commissione di inesperti come quella Anfiteatro Sicilia che ha approvato senza neanche il parere di archeologi e restauratori il programma sconsiderato di 14 spettacoli rock nel teatro greco di Siracusa che ha sollevato le proteste di associazioni e comitati della società civile. In realtà, come abbiamo più volte ripetuto, per restituire efficienza e buon andamento dall'amministrazione regionale dei beni culturali, non servono nuove disposizioni legislative ma sarebbe sufficiente applicare finalmente la normativa regionale e nazionale. Infatti, per assicurare una direzione efficace e competente ai luoghi della cultura siciliana e come chiediamo da tempo, la Giunta regionale deve provvedere a emanare un atto di indirizzo che in attuazione di quanto previsto dalle leggi regionali citate dalle sentenze definitive di Cassazione individui dirigenti tecnici dei beni culturali a cui la legge regionale affida la direzione dei parchi archeologici nelle decine di funzionali direttivi archeologici e storici dell'arte vincitori del concorso del 2000 per dirigenti tecnici dei beni culturali ex ottavo livello. Le associazioni firmatari sono la Confederazione Italiana Archeologi, Angela Badessa, Presidente Nazionale, Italia Nostra, Leandro Ianni, Presidente regionale, Ranuccio Bianchi, Bandinelli, Rita Paris, Presidente nazionale, Memoria e Futura, Diana Laudani, Presidente nazionale, Emergenza Cultura, Maria Pia Guermandi, Coordinatrice nazionale.